Quanto spendo per fare la spesa in Svezia? Due peperoni circa 2,20 euro Un ghi champignon che vedete nella foto 1 euro 4,50 euro 5 euro 3,60 euro Fagiolini dolci pronti da mangiare 3 euro 450 grammi di filetto di maiale 5 euro Questo però era una offerta In totale ho speso circa 26 euro Cosa ne pensi?